registrazione video full hd samsung galaxy 10 2016 registrazione video con un fortissimo vento ma con buonissima questo bellissimo spettacolo del sole che si riflette sul mare con le barchette andiamo a vedere le barchette vediamo se riusciamo ad inquadrare questo lo zoom al massimo non si va oltre samsung galaxy j5 2016 registrazione video full hd che è la massima risoluzione possibile un saluto da gianni fiore per pantarenews.com